Vi illustreremo ora alcune significative migliorie introdotte dal piano passera. L'assistente di volo vi sta segnalando le uscite di sicurezza. Vi dislocate alla vostra sinistra e alla vostra destra. In caso di necessità, una linea luminosa vi segnalerà il percorso. Il giubbotto di sicurezza è situato sotto il vostro sedile. Dopo averlo indossato, soffiate nell'apposito beccuccio. Per ulteriori informazioni potete consultare il pieghevole posto nel sedile davanti a voi. Alitalia vi ringrazia per aver scelto i suoi servizi. E godetevi di lui. Piano passera. L'Alitalia cambia da così a così.